ciao a tutti anime benvenute e benvenute a tutti quanti qui su quinta dimensione letture da un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di questo canale a chi mi segue da tanto con affetto e anche ai nuovi vi rinnovo l'invito a tutti quanti che non l'avesse fatto a iscriversi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte oggi come vi avevo anticipato e promesso vi metto il primo di una serie di video dove parlerò dei sette raggi poi successivamente quando l'argomento sarà ben ingranato e digerito tra virgolette parlerò anche dei cinque raggi occulti allora questo appunto è un video poi vi faccio la playlist dove li troverete tutti ovviamente man mano che li caricherò non li caricherò tutti i giorni ne metterò un po' per volta ok fino ad arrivare intanto ai primi sette poi la programmazione di questo canale comunque proseguirà come sempre questo è veramente uno spunto molto importante vi invito a seguire attentamente tutto il video perché non tirerò giù carte ve lo dico subito ma qui mi rivolgo veramente agli ascoltatori di questo canale che vogliono veramente sottolineo veramente una crescita spirituale profonda questo è un cammino che faremo insieme a tanti esseri di luce e principalmente con i maestri ascesi che sono propri direttori chiamati chohan dei raggi quindi ogni raggio ognuno di questi raggi è appunto capitanato da un maestro asceso particolare oggi ti parlo del primo raggio che è il raggio blu o azzurro ed è appunto sotto la supervisione del direttore eccolo qua e il moria adesso vi faccio vedere anche qualche libro tra cui questo e uno sono tutti della editrice italica e appunto vi do dei consigli di letture per chi volesse approfondire veramente questo argomento no su questo video io vi metterò le indicazioni del raggio e i decreti da fare per quel raggio in quel giorno con le pietre associate e con insomma le preglieri decreti proprio per aiutarci a entrare sempre in contatto noi dobbiamo attivare questi raggi lavorare ogni giorno con quel raggio poi vi spiego come questo è veramente un lavoro che ogni diciamo discepolo ogni studente dovrebbe fare e originariamente è stato tutto diciamo canalizzato proprio attraverso i maestri ascesi proprio dal ponte alla libertà che è una delle primissime scuole gruppi che sono nati insomma intorno al 1900 se non mi sbaglio 30 o comunque intorno al ai primi anni del 1900 quindi da tanto tempo che c'è questa cosa ed è una scuola veramente molto seria molto seria che ha dato delle prove indiscutibili di queste cose di queste presenze di queste canalizzazioni allora partiamo un attimo vi faccio vedere i libri consigliati sempre di editrice italica questo è proprio nuovissimo è uscito da pochissimi mesi i sette raggi e i cinque raggi occulti sempre la collezione metafisica della editrice italica per chi vuole approfondire questo è un ottimo libro veramente questo è uno poi abbiamo una cosa fondamentale i sette raggi comunque si associano anche alla metafisica e per comprendere bene la metafisica che non è difficile non è difficile vi consiglio questi due libri la metafisica 4 in 1 di conny mendes questo è il primo volume diciamo il volume 1 questa è la seconda edizione quella che ho preso io comunque stravenduto specialmente in lingua spagnola come metafisica quindi questo è il primo il volume 1 e poi c'è la metafisica il volume 2 di conny mendes eccolo qua metafisica alla portata di tutti e cos'è la metafisica la numerologia parla anche dei maestri ascesi comunque insomma ci sono tantissime informazioni utilissime per la nostra crescita personale spirituale veramente tanti gli si apre no un mondo dieci mondi e poi abbiamo comunque anche come riferimento i nostri libri di telos ve li ricordo dal volume 1 al volume 4 in particolare di queste fiamme sacre che sono poi raggine parla anche il libro di telos di aurelia luis jones ora qua ci facciamo però un riferimento in particolare proprio ai dettati della metafisica e del ponte della libertà proprio per quello che vi sto per dire quindi è preso comunque da una marea di informazioni che ho io sia tra questi libri ma non solo e adesso ve le faccio vedere ve le allora vi ricordo metafisica primo volume metafisica secondo volume comincio a togliere se no qui sopra non centro oggi mi concentrerò più su questo libro e su questo che questo allora meditazioni quotidiane sempre editrice italica e qui abbiamo diciamo un tascabile dove per ogni giorno l'abbiamo proprio a portata di mano se volete questo è molto comodo per portarlo in giro per chi è fuori casa come vi faccio vedere no per esempio il giorno venerdì giovedì eccolo qua mi volano via martedì cioè ogni giorno voi avete quello pronto per fare adesso io ve li leggo questi è allora adesso partiamo e vi spiego un po il discorso del primo raggio e dei raggi aspettate che ho le mie informazioni allora sempre da metafisica vi spiego i sette raggi sono praticamente i sette aspetti di dio le sette virtù divine sette cammini per sviluppare la presenza divina nel nostro essere terreno e sono appunto chiamate anche sette sfere che ospitano l'energia dei raggi la luce delle sfere si trasforma in raggi che si convertono in fiamme i raggi sono anche conosciuti come dono dello spirito santo e corrispondono proprio alle virtù divine che dopo vi dico quindi c'è questa radiazione di questi raggi che si ancora al nostro corpo casuale perché vi dico causale perché vi dico che è molto importante lavorare con i raggi perché veramente vi cambia proprio è il discorso anche energetico personale alziamo le vibrazioni possiamo essere aiutati molto di più da maestri ascesi insomma da tutto quello che che fa del bene no di questo raggio tutto quello che possiamo prendere di buono ma è sempre un lavoro e nessuno regala niente qua allora la terra è guidata da una gerarchia spirituale di maestri che viene chiamata la grande fratellanza bianca magari vi metto anche qualcosa in sovraimpressione lascio il campo libero la grande fratellanza bianca la fratellanza si riunisce in un luogo eterico chiamato shamballa e da lì si occupa di guidare la terra verso un destino luminoso i maestri non apportengono a nessuna filosofia o religione ma irradiano attraverso tutti i movimenti positivi dell'umanità ispirando il progresso e l'evoluzione della coscienza planetaria planetaria ogni maestro si prende cura di uno o più aspetti dell'esistenza ok quindi allora ecco perché poi ogni raggio è associato proprio ad un maestro e oggi parliamo del primo raggio il primo raggio è azzurro o blu della volontà si chiama il raggio della volontà le qualità principali ok che veicola il raggio azzurro cioè quello che voi andrete a sviluppare su quello insomma quello su cui andate a lavorare sono le seguenti cose con questo primo raggio blu azzurro la volontà il principio lo spirito la fede la forza l'entusiasmo la protezione e il potere il reggente di questo raggio è il maestro e il moria la radiazione del raggio sulla terra viene gestita dall'arcangelo michele il cui giorno in cui questo raggio è più attivo è la domenica poi abbiamo il secondo giallo il secondo raggio è giallo di cui parleremo più avanti è raggio dorato giallo dorato il terzo raggio è rosa il quarto raggio è bianco il quinto raggio è verde il sesto raggio è oro rubino e il settimo raggio è il raggio violetto ma noi oggi parliamo proprio del primo raggio e andiamo a prendere proprio allora in ogni raggio ci sono diversi esseri esseri di luce dei eccetera eccetera elohim arcangeli e tutto quanto quelli che sono proprio in aiuto per esempio gli elohim sono esseri di grandissima evoluzione conosciuti anche come i costruttori della forma e sono la massima evoluzione del regno elementale e questi che sono menzionati proprio questi elohim che sono proprio diciamo a capo che si occupano di quel raggio in particolare sono proprio grandissimi esseri di luce che lavorano per il proposito divino dell'evoluzione cosmica sotto la legge dell'amore e dell'armonia adesso vi leggo partiamo con il primo raggio allora chiamato anche prima sfera nel sistema solare il raggio azzurro sorge dalla prima sfera intorno al nostro sole nella quale si originano le idee divine è appunto il raggio della volontà e del potere il colore azzurro o blu nelle sue diverse gamme in accordo all'attività che sta realizzando le virtù sono buona volontà ordine principio forza potere capacità di governare poi andiamo il chakra corrispondente è il chakra della gola ok chakra della gola quindi quinto chakra il giorno della settimana ha detto a questo a questo raggio il giorno in cui è più attivo è la domenica il giorno in cui è più intenso quindi questo che vi dico oggi da recitare di domenica lo metto anche nel titolo vi ricordo che vi metterò anche le note tonali che cosa sono le note tonali sono quelle melodie fatte ad una certa tonalità e quindi emettono una certa vibrazione in base a quella tonalità e proprio lì quel giorno sarebbe bene sentire quelle musiche io adesso vi ho fatto anche delle playlist dedicate quindi non solo il video per ogni raggio per ogni video di ogni raggio ci sarà una playlist sempre fatta da me dove vi metto in fila tutte le musiche di quel giorno quindi la domenica andate sulla playlist della domenica prima fate questo vi consiglio prima i decreti e poi la playlist così già sapete vi aprite vi connettete con l'energia di quel raggio e poi ascoltate le musiche anche in sottofondo non c'è bisogno di stare lì e lasciare perdere tutto anche in sottofondo fate come volete il chohan quindi o il direttore del raggio proprio il maestro e il moria gli elohim sono hercules e santa amazzonia gli arcangeli di questo raggio sono l'arcangelo michele e fede dette anche l'arcangeline si chiamano i profumi di oggi che potete accendere quindi in modo particolare come incensi sono proprio l'odore il profumo dell'incenso e anche del sandalo quindi questo perché ve lo dico cerchiamo di stare ogni giorno connessi al massimo se oggi sappiamo per esempio che la tonalità musicale quella ascoltiamo quelle musiche perché vibriamo meglio insieme se sappiamo che quelle pietre meglio metterle oggi piuttosto che domani mettiamo le oggi se oggi è più in risonanza con il tutto con il tutto quel tipo di odori che ne so il sandalo allora perché accendere la rosa quello magari è più indicato un altro giorno che vi dirò quindi cerchiamo di stare dietro a queste cose le pietre ottime per oggi sono il diamante quindi anche qui se non sapete che cosa mettere oggi la domenica seguite questi video perché è una pietra che vibra di più ha più potere in questo giorno diamante lapislazuli zaffiro topazio blu e turchese la nota musicale della domenica di questo raggio blu è il sì quindi ripeto ciacra della gola il giorno la domenica il ciohan direttore maestro elmoria i elohim hercules e santa amazzonia gli arcangeli l'arcangelo michele arcangelina fede profumi incenso e sandalo le pietre il diamante lapislazuli zaffiro topazio blu e turchese la nota musicale è il sì quindi maestro elmoria appunto è il direttore del primo raggio il tempio eterico del maestro elmoria è noto come il tempio della volontà di dio e si trova in india ok adesso piano piano ve le leggo tutte allora poi abbiamo la lady miriam che in realtà si chiamava si chiam si chiamava perché non c'è più geraldine innocente nata a new york il 19 marzo 1916 che è stata una proprio delle canalizzatrici molto importanti molto importanti proprio per il ponte della libertà e geraldine innocente gli elohim sono hercules e santa amazzonia quindi del primo raggio azzurro blu le loro attività sono la forza il potere e la volontà divina e la volontà di fare questi sono tutti esseri ve li sto nominando perché oggi sono particolarmente attivi a cui possiamo proprio dedicare magari un pensiero in più e chiamarli ok quindi andiamo avanti ancora gli arcangeli appunto michele e fede sono gli arcangeli del primo raggio azzurro della fede di dio michele è il principe degli arcangeli il suo tempio è noto come tempio della fede illuminata e della protezione si trova in canada il motto del tempio è io ho fede nel potere di dio poi dopo ricordatevi sempre le note tonali è l'arcangelo michele e l'arcangelina fede sono i direttori del regno angelico e direttori di tutti gli arcangeli di questo sistema solare michele è figlio dell'arcangelo della resurrezione e padre dell'arcangelo mica scritto mica con la h finale mica poi andiamo avanti abbiamo lord principa che è un dio o un signore dell'ordine divino ed è conosciuto nei livelli interni come principa poi abbiamo tutti i decreti e abbiamo lord shiva che è il terzo aspetto della trimurti o trinità induista rappresenta l'aspetto distruttore trasformatore della divinità o dell'universo è la base del cambiamento e dell'evoluzione della vita queste cose le dovete ascoltare non dovete saltare solo fino al decreto e se no non ci capite niente a cosa che cosa o a chi state decretando le cose madre kali che è la madre cosmica del primo raggio è conosciuta come una delle consorti di shiva e viene rappresentata di colore blu scuro mi raccomando questa ricordate la perché c'è una potente invocazione a madre kali che possiamo fare per proteggerci proprio dal male lord e lei di sirio lord sirio è il logo sossolare della stella sirio dirige la fratellanza di sirio la quale ha prestato aiuto al pianeta terra fin dall'inizio dei tempi e tuttora sta aiutando immensamente l'umanità ad accelerare il processo di ascensione planetaria infatti questo cristallo andara qui si chiama proprio blu sirius il potente victory abbiamo che è un essere cosmico originario del pianeta venere il servizio che ha prestato per eoni alla fiamma della vittoria lo ha insegnato dell'autorità suddetta fiamma in questo sistema solare che è discepolo proprio di sanat kumara il comandante korat che è un essere del regno angelico appartenente al raggio azzurro della protezione divina e poi abbiamo gothrey rei king conosciuto anche come guy ballard che è stato proprio il fondatore dell'attività io sono detta i am activity fu il canale che il maestro san germain preparò e utilizzò per portare all'umanità l'uso e l'applicazione della presenza io sono è bellissimo questa cosa gothrey rei king è stato un grande messaggero della fratellanza bianca eccolo quasi avevo ragione dall'inizio del ventesimo secolo fino alla sua ascensione nel 1939 ok grazie all'aiuto ricevuto dal grande direttore divino nella grotta dei simboli e i suoi quattro corpi inferiori sono stati allineati e la sua fiamma triplice equilibrata diventando così il canale di molti miracoli e guarigioni prima della sua ascensione poi abbiamo k17 che è il nome in codice di questo misterioso maestro asceso del primo raggio conosciuto anche sotto lo pseudonimo l'amico parte del suo servizio sono la protezione divina la purificazione della politica internazionale infatti questo essere lavora per liberare i governi dalla corruzione e dirige i servizi di intelligence delle forze della luce questo sarebbe da invocare in certi periodi veramente poi abbiamo alexander gaylord che raggiunse la sua ascensione nel 1937 e fino a quel momento era stato un messaggero della fratellanza bianca incarnato poi abbiamo chananda che è il capo del consiglio indiano della gerarchia spirituale e della grotta della luce il dio e il signore delle alpi è il guardiano di queste potenti montagne e ha il suo ancoraggio di forza nel monte rosa tra l'italia e la svizzera dal monte rosa esiste un collegamento energetico con il tempio del potente hercules a zurigo e questo collegamento emana una radiazione dei sette raggi come un grande corpo causale che si estende da zurigo fino a ricoprire tutte le alpi poi abbiamo mercurio l'amato mercurio è il logos planetario dell'omonimo pianeta che sarà il primo a entrare nel seno del logos solare helios e vesta nella prossima grande iniziazione mercurio è un pianeta del primo raggio dal quale proviene il maestro el moria molto bene adesso cominciamo prendiamo da qui e poi anche dall'altro libro che vi ho fatto vedere e cominciamo con i decreti quindi da fare la domenica questi decreti particolari a questi maestri ricordo che i raggi sono sempre attivi non è che il lunedì il raggio blu non esiste nel mondo il raggio blu esiste sempre e comunque ma la domenica è il giorno in cui è più attivo quindi primo raggio azzurro e cristallino della fede forza potere protezione e volontà di dio amata presenza di dio io sono dentro il mio cuore ti amo ti adoro ti invoco perché tu accenda in me la fiamma azzurra e cristallina affinché la volontà di dio si manifesti in tutto ciò che faccio durante questo giorno ora mi rendo conto che dentro il battito del mio cuore c'è un piano divino che dio ha preparato per me ed il modo per portarlo in manifestazione ora entro nel silenzio e ascolto e so che cosa devo fare mentre mantengo l'attenzione sul piano divino esso prende forma e si realizza io sono la fede nel potere di dio in me per dirigermi proteggermi illuminarmi guarirmi provvedere alle mie necessità e sostenermi amato maestro e il moria ti amo ti benedico e ti ringrazio per il servizio a me e a tutta l'umanità avvolgimi nella tua fiamma azzurra d'amore e fammi sentire la tua forza e potere e che io possa ricevere le idee di dio ed esternarle alla manifestazione esteriore per benedire i miei fratelli umani aiutami a dire alla presenza divina in me sia fatta la tua volontà e non la mia aiutami a sentire e comprendere la tua obbedienza illuminata a questa volontà la tua umiltà spirituale davanti all'amore di dio e il tuo rispetto per dio per i suoi rappresentanti e per la presenza di dio in ogni cuore umano amata maestra lady miriam e amato signore sirio vi amo vi benedico e vi ringrazio per il vostro servizio reso a me e a tutta l'umanità avvolgetemi nella vostra fiamma azzurra d'amore sostenete la mia preghiera affinché l'energia divina mi permetta di sentire la forza e il potere di quella presenza eterna sempre attiva nel mio cuore amato arcangelo michele ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo grande servizio reso a me a tutta l'umanità e al nostro pianeta terra durante tanti secoli invia ai tuoi angeli di protezione affinché avvolgano me coloro che mi sono cari e tutti quelli che lavorano per il bene su questo nostro pianeta taglia e libera dai pensieri e sentimenti che non si adattano al concetto immacolato che dio ha previsto per noi ti ringrazio amato hercules ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo grande servizio alla nostra terra e a tutto ciò che essa contiene carica il mio corpo fisico eterico mentale ed emozionale con la forza di hercules ed il potere del tuo amore che offre un'invincibile protezione in ogni momento nel nome della presenza di dio io sono in me e nel nome di hercules esprimo la mia volontà di essere divinamente libero nella mia mente nei miei sentimenti nel mio corpo nelle mie finanze nel mio mondo e nei miei impegni esprimo la mia volontà di essere un maestro divino esprimo la mia volontà di essere il dio incarnato che ha promesso gesù partiamo adesso anche da questo libro amato maestro el moria manifesta adesso il governo divino in questa benedetta nazione amato maestro el moria fa sì che in queste elezioni vengano scelti i candidati che servono meglio il piano divino di questa benedetta nazione amato maestro el moria manifesta qui e ora la volontà divina in questa situazione persona o cosa e qui dite la vostra cosa che vi interessa che vi serve io sono la forza e il potere invincibile del potente hercules io sono la forza e il potere invincibile del potente hercules Io sono la forza e il potere invincibile del potente Hercules. Amato Arcangelo Michele, nel nome della Divina Presenza io sono, proteggimi in questo giorno e in tutti i giorni della mia vita con il tuo mantello e armatura di luce azzurra da ogni energia inferiore alla perfezione di Dio. Amata presenza di Dio io sono in me e amato Arcangelo Michele, vi amo. Amato Signore Michele, invia i tuoi angeli con la spada di fiamma azzurra perché taglino e liberino. Taglino e liberino, taglino e liberino, taglino e liberino, taglino e liberino ogni linea di forza che mi connette con l'imperfezione. E invia la tua fiamma azzurra per dissolvere ogni linea di forza fino alla fine. Colloca la tua croce di fiamma azzurra davanti a me, dietro di me, su ogni mio lato, sopra e sotto di me e sigillami. Amata Signora Fede, donami il potere della fede e della fiducia nel potere divino. E ora decreto consentimento. Io ho fede che il potere divino sta agendo in questa situazione manifestando la perfezione. Nel nome della divina presenza di Dio io sono, amato Principa, manifesta l'ordine divino in questa situazione. Io sono l'ordine divino dell'amato Principa, nei miei quattro corpi inferiori, nella mia famiglia, nella mia casa, nella mia economia e nella mia vita. Io sono l'ordine divino qui, ora, ed eternamente sostenuto. Grazie, Padre e Madre. Con il pieno potere e autorità dell'amata presenza di Dio io sono, ti invoco, amato Principa, Signore dell'ordine divino. Vieni ora, vieni ora, vieni ora, vieni ora, nella pienezza del tuo potere di maestro asceso. Aiutami a stabilire l'ordine divino nei miei affari sul piano fisico, così come nei miei veicoli emozionali, mentali, eterici e fisici. Nel nome della divina presenza io sono, ti invoco, amato Lord Shiva, affinché, con il tuo raggio di sintesi cosmico, consumi e dissolvi questa situazione trasmutandole in una forma di vita superiore. Proteggi la luce e la verità con il tuo grandissimo potere. Amata Madre Kali, dissolvi immediatamente questa situazione e manifesta lì la divina perfezione. E dite, quale situazione ha bisogno di questo? Con il pieno potere e autorità dell'amata presenza di Dio io sono, Ti invoco, amato Victory, angelo della vittoria, affinché manifesti la vittoria in questo obiettivo della mia vita e soprattutto la vittoria del mio piano divino di perfezione. Grazie, padre e madre. Io sono la vittoria dell'accettazione e dell'espansione degli insegnamenti della grande fratellanza bianca, amato Victory. Io sono il raggiungimento vittorioso della luce. Io sono il raggiungimento vittorioso della volontà di Dio in questo pianeta Terra e in tutte le sue evoluzioni. E proseguiamo. Proseguiamo. Questi erano i decreti dei principali esseri, angeli, arcangeli, Chohan, Elohim, Lord e Lady, varie, che sono associati al primo raggio. Vi avevo detto che riguardo alla potentissima madre Kali c'era una potente invocazione. È lunga, è lunga. Allora, tutto quello che è stato detto lo scrivo sotto, non in sovraimpressione, ma nella descrizione del video. Sono molte cose, sono lunghe queste cose. Facciamo anche la potente invocazione a Kali per chiudere il video del primo raggio. Vi ricordo il tutto è su questo libro, molto bello, quindi tutto il credito di questo video, di quello che dico, va ovviamente a loro, che anche loro a loro volta hanno tradotto e trovato. Allora, potente invocazione a madre Kali. Vi dico questo, è molto importante sapere che quando invochiamo la madre, lei viene a ripulire tutto nel nostro mondo, anche quando siamo noi stessi la causa della nostra sofferenza. Quindi, qualunque sia la causa, anche noi stessi facciamo questa potente invocazione, se sentite proprio quanto è bella, eh. Allora. Magnanima madre Kali Con umiltà, ma fermamente, ti invoco nel nome della mia divina presenza di Dio, io sono. Con amore, devozione e intelligente, ti chiedo di comparire dinanzi a me, in questo momento, con l'incommensurabile potere del tuo splendente e scintillante raggio azzurro elettronico, che emana la tua potente presenza. Manifestati E di buona volontà E di buona volontà, con il mio io personale, ogni egoismo, dubbio, paura, egocentrismo e vanità che ostacoli la mia ascensione e quella di tutto il genere umano. Madre Kali E di buona volontà Potente Elementale E di buona volontà Molto simplement, che possa contro Kali 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 Mane Kali eigentlich Kali Sempre Vittoriosa Così è Eternamente nel più sacro nome di Dio Io sono devo dire che una bella avete sentito che potenza questa è un'invocazione pazzesca pazzesca veramente insieme alle altre che faremo che farete e che si fanno in questo giorno perché proprio il raggio del potere la volontà divina quindi niente può contro questo perciò lavorate molto su questo raggio proprio per fortificarvi per fortificare voi stessi portate le pietre il turchese questo tra l'altro si chiama anche blu sirius è un cristallo andara è il lapislazzuli ok alcune cose saranno riassunte nella descrizione di questo video va bene vediamo se vi devo dire qualcos'altro allora l'attivazione del raggio comunque è l'attivazione la fate voi cioè lavorando con quel raggio funziona molto per esempio la visualizzazione cioè visualizzatevi proprio completamente permeati di questi colori quello che vi viene più diciamo a voi la tonalità più preferita se vogliamo quella che vi viene più naturale visualizzare se più chiaro se più scuro non importa la tonalità del blu quindi visualizzarsi lavorarci decretare queste cose chiamare i maestri ascesi gli altri esseri di luce di quel giorno tutto questo aiuta ad attivare questo raggio in voi deve essere un lavoro costante non è che si fa una volta a settimana e non si fa più questo va fatto per tanto tempo io lo dico il lavoro non è non è semplice il lavoro personale ci vuole tanta tanta costanza chiudiamo per omaggiare con un'invocazione el moria che è proprio il chohane il direttore di questo importantissimo raggio che è il primo raggio blu azzurro e diciamo io sono io sono io sono la risurrezione e la vita dell'illuminata fede in azione dell'amato maestro asceso e il moria dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la risurrezione e la vita dell'illuminata fede in azione dell'amato maestro asceso e il moria dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la risurrezione e la vita dell'illuminata fede in azione dell'amato maestro asceso e il moria dentro il mio essere e nel mio mondo oggi molto bene questo è stato il video per il raggio blu azzurro mi raccomando attivate utilizzate questi 12 raggi e le loro rispettive virtù divine mi raccomando attraverso la respirazione attraverso non so anche la come ho detto prima la visualizzazione no queste cose qua lo studio con chi sapete magari anche che potrebbe condividere questo vostro pensiero quindi non ne parlate con chiunque parlatene con solo con chi insomma sapete che possa capire vi metto tutto quanto nella descrizione tutto quello che posso ovviamente e vi invito a seguire anche gli altri video di questa serie proprio dedicata ai sette raggi intanto per cominciare poi i cinque raggi occulti mi auguro che qui ci siano molti discepoli molti studenti che amano questo lavoro e che seguiate anche poi il fare da soli va bene o comunque con chi volete anche con un'altra persona con più di una persona avete un gruppo che frequentate che fate meditazione queste cose parlatene potete farlo anche insieme agli altri insieme questo lavoro che si può fare insieme ma comunque è sempre molto importante averlo già dentro questa cosa cioè non si può proporre una cosa che non si sente che non si sa cos'è che non si capisce quindi prima di proporre fate vostro questo video fate vostre queste parole questi decreti conosceteli studiateli capiteli prima voi per poi condividerli e per poi lavorarci lavorateci anche prima voi e poi espandete anche agli altri quando siete insomma ben consapevoli di quello che state facendo e di quello che state dicendo quindi vi ricordo appunto questi video nella playlist e vi ricordo quando abbiamo finito i decreti che abbiamo letto fate anche le note tonali ascoltatele nella playlist appunto del primo raggio domenica andate a vedere la playlist proprio delle note tonali quindi sono quelle musiche che è meglio ascoltare proprio in questo giorno dedicate al raggio blu e dove ci sono le note tonali che corrispondono a tutti gli esseri che vi ho detto prima a partire da dal direttore da el moria di questo raggio del raggio blu azzurro fino agli altri esseri degli arcangeli e tutto quanto è bellissimo tutto questo perché sapete proprio che ascoltando quella musica siete in sintonia con le note proprio anche dell'arcangelo ci sono tutte le note dell'arcangelo michele del maestro asceso degli altri dei dei le ho messe tutte quante quindi fatela partire e la fate finire va bene anche più volte al giorno se vi piace in sottofondo come volete voi scegliete voi ma siate in sintonia anche mettere quelle note è una sintonia con il raggio blu va bene e vestitevi anche di blu quindi la domenica il colore che richiama di più questo raggio è qualsiasi cosa tu possa indossare di blu maglietta pantaloni tuta scarpe quello che vuoi compresi ovviamente cristalli le pietre varie va bene grazie a tutti di essere stati con me qui su quinta dimensione letture e vi aspetto presto vi invito a guardare quindi tutti quanti i video di questi stupendi 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 raggi grazie 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 a presto